Questa non è civiltà, questa non è libertà, questa è una deviazione dei principi minimi di civiltà giuridica sulla quale questo ministro è disposto a battersi fino alle dimissioni. Per Carlo Nordio l'uso corretto delle intercettazioni non è una mera formalità procedurale annidata nel codice di rito, ma una questione di civiltà giuridica, tanto da mettere sul tavolo nel caso di una mancata riforma dello strumento le proprie dimissioni. Lo ha fatto nel corso dell'audizione alla Camera dei Deputati, a meno di 24 ore da quella al Senato, dove aveva usato parole altrettanto nette. Nordio ha ribadito di non voler eliminare le intercettazioni in sé, quanto di rivederne la funzione. Sono mezzi di ricerca della prova, non di prova, ha scandito il guardasigilli trevigiano a Palazzo Montecitorio, ricordando la sua esperienza da magistrato alle prese con l'inchiesta del Mose. In quel caso ho avuto migliaia di intercettazioni, ha rivelato, ma nulla è mai uscito sui giornali. Proprio questo è l'altro aspetto per l'ex PM, ovvero la riservatezza e la tutela dell'onore delle persone coinvolte, spesso neanche indagate. Al Senato Nordio ha portato casi concreti, alcuni vissuti in prima persona, anche di colleghi rimasti schiacciati. E vorrei ricordare alla fine mio amico Loris D'Ambrosio, del mio concorso, magistrato importante, consigliere del Presidente della Repubblica, deceduto, forse anche lui di crepacuore, perché era stato coinvolto in questa porcheria di diffusione pilotata e arbitraria di intercettazioni. Nessuno ha voluto attaccare i magistrati, ma sono deluso da alcuni di loro. Le parole di Nordio alla Camera, che così ha risposto tra le righe alle critiche mosse dall'Associazione Nazionale Magistrati, subito dopo l'audizione a Palazzo Madama. Ma la partita sembra solo all'inizio.